Nome? Marco. Anni. 35. Moto posseduta. Vespa PX, Vespa PK e Vespa Special. Moto desiderata. Ural. Qual è il tuo posto del cuore? La Russia. Il viaggio più bello che hai fatto? Elefantreffen, Touretreffen in Vespa. Il viaggio che vorresti fare? Attraversare la Siberia in moto. Un aggettivo per descrivere OJI. Affidabile, fantastica, top di gamma. Saluta. Ragazzi, sempre on the road, mi raccomando, con OJI potete arrivare ovunque. Ciao! Ciao!